salve a tutti da casa del papi guardate chi abbiamo ritrovato grazie a delle persone di priverno che ci hanno dato le indicazioni giuste per andarla prima come sei arrivata lì giù ma me lo fai capite guarda sta a mangiare poverina si è mangiata tutto è stata praticamente dieci giorni le sue crocchette dieci giorni chiusa in un garage detto da un ragazzo perché non voleva uscire non non poteva uscire non voleva uscire ragazzi sono sudato con una temperatura allucinante fa freddo ma sono emozionato tantissimo mia è tornata a casa benvenuto e ben ritornato in tanna più ma magna quasi è mangiata tutto stella c'è pure tu madre che sta a sentire è tu madre non ti dà tu pizze così ti ricorda che è tu madre vai vai tranquillo